Gli elementi della maglia sono tanti, innanzitutto parlerei di un simbolo molto importante che è il tricolore. Quest'anno noi ovviamente come tutti sapete possiamo appuntare questa coccarda meravigliosa che questi giocatori ci hanno consegnato lo scorso mese di maggio e che è un elemento evidentemente di forte impatto e di forte appeal per tutti coloro che desiderano possedere e collezionare questa maglia. Un altro elemento molto importante è ovviamente rappresentato dai nomi delle aziende che sono su questa maglia che sono non soltanto nomi molto prestigiosi ma la durata della permanenza di queste aziende sulla nostra maglia è molto significativa anche di quella che è la nostra strategia e la nostra capacità di attrarre. Innanzitutto abbiamo Lete, un'azienda che quest'anno celebra l'ottavo anno di collaborazione con il Calcio Napoli è un'azienda che ha sposato il Napoli in Serie C e ci ha accompagnato fino alla Champions e fino alla vittoria della Coppa Italia. Abbiamo un'azienda che produce queste maglie, la Macron, abbiamo qui poi in sala tra gli altri anche il direttore marketing quindi poi qualche domanda potrete porgerla anche a lui. Magro che quest'anno è il quarto anno di collaborazione con noi e che è l'artefice ovviamente di questa maglia e poi l'importante collaborazione è nata lo scorso anno, quest'anno siamo al secondo anno con MSC Crociere. L'anno scorso sulla nave presentammo la maglia e presentammo anche Hiller e chiaramente anche quest'anno abbiamo delle sorprese che presenteremo a bordo della nave. I ragazzi sanno, e Paolo in particolare è uno dei nostri, però non tiene, io già so... Sanno che le maglie sono innanzitutto pensate per dargli il massimo del comfort e per consentirgli il massimo delle prestazioni. Quindi hanno tutta quanta una serie di inserti laterali che consentono la massima traspirazione e quindi non c'è soltanto una grande attenzione allo stile ma anche una grande attenzione agli aspetti tecnici.